Ma ci hai mai pensato? Ma ci hai pensato che negli ultimi vent'anni questa città ha sempre perso? Ha perso l'ospedale, ha perso il supercinema, ha perso l'ex scuola di MC Guerra, ha perso il tribunale, hanno perso le fabbriche, ha perso il lavoro e hanno chiuso tanti negozi. E questo perché negli ultimi vent'anni ci hanno governato sempre i soliti, di destra e di sinistra. I Fiorito, i Noto, i Bassetta, i Natalia e i Tagliaboschi, sono loro che ci hanno fatto perdere negli ultimi vent'anni. E adesso il 10 giugno ci ritroviamo sempre lì, sempre dentro quelle liste. Ma non ti sei stufato? Ma non ti sei stufato di perdere ancora? Che altro vuoi perdere? Non hai più nulla da perdere. Io mi sono stufato e voglio cominciare a vincere. Io voglio che mia figlia vinca. Io voglio che questa città vinca ed abbia un futuro migliore. E allora l'unica cosa che possiamo fare è il cambiamento. Vota Fernando Fioramonti sindaco e cambiamola davvero questa città.